Buongiorno a tutti, buona domenica a tutti. Oggi è una giornata con i fiocchi, caldo, sole. Bella, bella giornata. Ci voleva? Ma penso che dovrebbe iniziare a fare delle belle giornate adesso, spero. Perché è rotto un pochettino. Veramente. Mamma mia, si muore dal caldo, ragazzi. Sotto il sole si crema. Si crema, veramente. Adesso vado a farmi una passeggiata sulla spiaggia. Non una passeggiata, vado a vedere il mare direttamente. Andiamo a vedere il mare. Vamos. Sto andando alla spiaggia. Ragazzi, se tutto va bene, ho un appartamento che si può affittare maggio, giugno. E non lo so seppure luglio e agosto. Se avete bisogno, fatemelo sapere. Si trova al mercadone. Però chiede 1.400 euro al mese. Questo, ve lo dico già in partenza. Sono due camere da letto, soggiorno, cucina, terrazzo. Boh. Se siete interessati, me lo dite, vi metterò in contatto con la signora. E se andiamo al mare. Questa è un'altra faccenda. La spiaggia. Secondo me oggi è la giornata più calda che sta facendo. Dio a 23 gradi. Alle 11. Comunque è pieno di inglesi, pieno di gente, ragazzi. Non so se per la settimana santa o quello che è, ma è pieno di gente, veramente. Il mare è una tavola. Una tavola è una favola. Mi sa che se domani è così vado al mare. E mi faccio anche il bagno perché mi attira. Se è così. Quindi. E' stracolmo, ragazzi. Veramente. Anche spagnole, pieno di spagnole pure. Italiani e spagnoli, inglesi. Italiani tantissimi. Grazie a Dio che vengono. Io sono felice quando viene l'italiano. Non penso che farà brutto tempo il pomeriggio. Il cielo è apertissimo. Caldo della Madonna. Spettacolare oggi. Veramente. Chi non va al mare è un coglione. Io devo lavorare, purtroppo. Ma oggi chi non approfitta, mamma mia. Secondo me più tardi ci sarà il pianone qua al mare. Bene, nel mare siamo andati. Adesso saliamo. Ah, che bello. Ragazzi. Fra un po', se vuole Dio, devo venire in Italia. Se vuole Dio. Sempre, se vuole Dio. E poi vi faccio vedere il mio paesino. quando vado in Italia, in Calabria. Non so io quanta gente lo conoscerà. Che si chiama Roccella Ionica. Provincia di Reggio Calabria. Amo quel paese. E' il mio. Sono nato. Roccella Ionica. Paese dei Balocchi. Quando andrò, ve lo faccio vedere. Vi farò tanti video. Al mio paesino. Vediamo queste casette che ci sono qua. spero che non viene mosso. Perché cammino e mi sembra il telefono che balla. non metteremo la mano, ragazzi. Perché con la bici camminando era perfetto. Che cazzo stanno facendo? che fantastica giornata, ragazzi. 3 di aprile. stanno giocando i baby. strutture, 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 villaggi e strutture. bene. Sono tornato sulla caglie per chiudere sto video. Vi auguro una buona domenica a tutti e fatti bravi. Ciao ragazzi. A domani. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Grazie.